Eccomi all'esterno del Casinò Villa Moura qui in Portogallo, in questa località dell'Algarve. Sono fuori dal Casinò come vedete, tutto bello illuminato e tutto ormai scuro qui. Mancano due livelli, sono 96 giocatori ancora in gioco e sono purtroppo solo due di italiani che sono sopravvissuti in questo momento a questo Epitivi, la Moura, dei 1A, dei 6 che erano iscritti. Rimangono quindi solo due italiani che cercheranno di arrivare al Day 2 che si giocherà dopo domani. Domani naturalmente dalle ore 12 locali, quindi 13 italiane, vi aspettiamo con il Day 1B. Come vedete, welcome to Villa Moura EPT Pokerstar. E quindi per il momento qui da Villa Moura è tutto, ci risentiamo alla fine del torneo. Ricordiamo a tutti che il blog live Poker Italia Web è sponsorizzato da Sisal Poker e soprattutto che non potremo fare nei video, nei immagini all'interno del Casinò.